la passerella siamo tutti abituati a vederla così ma in realtà tutto parte da qui tubi grezzi come viene costruita ve lo spiego subito tutto comincia dalla materia prima tubi tubolari lamiere di acciaio inox 304 316 e alluminio il primo passaggio è quello del taglio e della foratura poi la saldatura dei vari componenti e l'assemblaggio in ultimo la personalizzazione con il logo dell'azienda oggi per capire al meglio tutto il processo siamo venuti da besenzoni punto di riferimento nel mercato delle passerelle così la struttura della passerella è completa ma per resistere ai più estremi agenti atmosferici necessita del trattamento delle superfici qui bisogna dividere le due tipologie di materiali l'acciaio e l'alluminio che grazie a specifici trattamenti chimici vengono preparati alla loro vita in mare non perderti il video che abbiamo fatto proprio sul trattamento dei metalli dopo un'ultima pulita con acqua pressione il pezzo viene messo ad asciugare pronto per il prossimo step la verniciatura che è un processo molto particolare e decisamente efficace il pezzo da verniciare alluminio acciaio viene preriscaldato a 180 gradi la vernice ancora sotto forma di polvere poliestere viene sparata con una pistola trovo e caricandosi elettrostaticamente sulle pareti della canna una volta fuori si attacca al metallo ora in forno di cottura a 210 gradi e grazie alla sua natura plastica si scioglie creando una glassa estremamente solida ma noi non ci fidiamo questi sono i test che da besenzoni vengono fatti a campione sui materiali finiti e no non si stacca proprio adesso i componenti della passarella sono pronti e passano alla fase di montaggio dove lo sfilo per capirci l'ultimo pezzo della passarella viene inserito dentro il fisso il primo segmento qui viene montato o il pistone idraulico o l'attuatore elettrico poi i candelieri e cima misura tech con eventuale illuminazione e il tutto dentro al box di contenimento in alluminio ecco com'è fatta e ora possiamo usarlo a 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